sto posto è pieno di cimici pieno comunque ieri ha vinto un ragno sto volando sto proprio volando adesso mi stanno mandando cose dicendo che praticamente si stanno mettendo a fare polemica sul fatto che io ieri ho ripreso una cimice che veniva mangiata da un ragno dicendo che io stavo torturando la cimica ma ragazzi che cazzo stiamo parlando ho fatto la storia un ragno che mangiava una cimice cioè tipo dieci persone mi hanno scritto ma cosa che io manco mangio la carne non mangio manco i latticini sono praticamente vegana ma che cazzo volete non non li ammazzo gli animali vaffanculo e e e e e e e Sì 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 Complimenti Sì 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 Raga comunque Cioè ci sono tipo Boh 32 gradi Cioè una temperatura assurda Io ho maglietta corta Ma comunque cioè Sto rimpiangendo di non essermi messa a riposare